se vi fa piacere datemi una mano a ritornare ad avere ciò chiaro mio iscrizione al canale gratis e campanellina sono provato sono provato come voi ragazzi dopo non ti posso dire sto ragionando ancora mente fredda perché non è vera però non è vero però tante troppe cose da dire oggi udinese inter praticamente la lassia partita dove i giocatori decidono di far fuori l'allenatore perché i giocatori non seguono più questo allenatore che addirittura al ventottesimo taglia le gambe a bastoni sostituendolo perché ovviamente era ammonito e poi toglie il migliore in campo e a mio avviso oggi genoa era il giocatore più periodoso quindi questo è un allenatore è in totale confusione che non ha più l'attenzione dei calciatori è un allenatore che ha cambiato difesa quattro volte parte con screener bastoni acerbi poi dopo screener acerbi di marco poi dopo l'ha ricambiato un'altra volta poi fai i cambi sui cambi perché si rende conto di averli sbagliati non to non cambia mai modulo perché non è in grado di cambiare modulo gli amici della lazio me l'hanno detto più di una volta guarda e lui non cambierà mai modulo a costo di essere esonerato quindi a parte il fatto che comunque bastoni bastoni mkhitaryan sono due giocatori che li ha demotivati in una maniera assurda guardate la reazione che ha bastoni quando viene sostituito come si rigira verso la panchina izagi non è un allenatore nemmeno da inter cinese da questa inter cinese qua che se ne sta andando per come la vedo la vedo io oggi ho avuto la riprova è un allenatore che non può stare secondo me non può allenare a livelli altissimi anche perché già da inizio stagione si vedeva e a livello di preparazione cerco cerco di rimanere calmo ma mi rimane difficile a livello di preparazione non ci siamo è stata sbagliata totalmente la preparazione io quando venne preso in zaghi e non ero e non ho problemi a dirlo non ero assolutissimamente contento dissi comunque uno delle una delle pecche di questo allenatore era comunque il fatto di avere uno staff non all'altezza per livelli alti come l'inter infatti le squadre di in zaghi voi sapete benissimo e di solito prima di quest'anno qua partivano forte poi dopo da febbraio poi due mesi di blackout vedi anche l'anno scorso quest'anno invece sono portati davanti con il lavoro non abbiamo mai incominciato a correre ancora perché tutti corrono molto più di noi e io ieri ho fatto un video ma dicendo delle cose scontate dove l'udinese è una squadra e comunque gioca un tantissima intensità che fa recupero palla e poi verticalizza per arrivare subito davanti sulle secondo sulle seconde palle ci hanno massacrati lui cosa fa mette i cagliardini perché pensa di contrastare un po le seconde palle a centro campo vedi per contrastare le seconde palle magari visto che non hai condizioni atletica non hai giocatori giusti devi cambiare modulo ma lui modulo non lo cambia mai lui modulo non lo cambia mai ormai i giocatori basta guardarli in faccia non lo seguono più questo allenatore è anche vero che fino a quando ci sarà questa proprietà per poco più ormai lo sappiamo tutti ma non penso che non penso che lo manderanno via penso che lui rimanga fino a quando non arrivi la nuova proprietà io comunque andrei da in zaghi solo per aver portato un giocatore irritante come correa solo per aver fatto spendere all'inter 30 milioni ad oggi te lo posso dire io in zaghi ti manderei via solo per quello perché quello non è un giocatore di calcio quello l'hai fatto spendere all'inter 30 milioni lasciamo perdere a scelbi ma io voglio parlare di correa in zaghi 30 milioni per correa ci hai fatto spendere 30 milioni per correa in più miei ragazzino lì aslani comunque c'è non penso che aslani potesse fare peggio di quelli hanno giocato oggi aslani non lo tene più in considerazione brosovic ha munito anche lui che ha incominciato a sbracciare come ai tempi come ai tempi di spalletti prima che spalletti lo scoprisse play e parlo del vecchio brosovic mezzala o trequartista i sconti diretti non ne vinci uno in zaghi ti mettono tutti in difficoltà a livello tattico sei prevedibile ascoltami zaghi te a livello tattico sei prevedibile come un rutto dopo un paio di bicchieri di coca cola o di birra non ci siamo non c'è intensità non c'è grinta non ci sono soluzioni offensive non c'è nulla in questa squadra in zaghi la tua fortuna è che che questi non hanno i soldi per mandarti via perché altrimenti te in un inter mediamente seria saresti già saltato da un paio di settimane allora io ti dico soldi fino a che non entra la nuova non ci sono meglio traghettatore ottenere in zaghi vuoi sapere come la vedo io sono drastico è opinabile è una mia opinione è meglio traghettatore perché oggi io te lo ripeto per quello che ho visto io in quel oggi ho visto l'assia partita come si dice in toscana forse si dirà anche da altre parti non lo so ho visto l'assia partita dei giocatori che fanno camisciola all'allenatore ovvero sia oggi i giocatori in campo parlavano non vogliono più questo allenatore che tra l'altro taglia le gambe a bastoni al ventottesimo umiliandolo e togliendolo perché lui i giocatori ammoniti li toglie cosa vuol dire se te lo togli che te li togli quando sono ammoniti cosa vuol dire è molto semplice magari tirano indietro anche la gamba perché sanno che se vengono ammoniti 90 su 100 la loro partita finisce lì e quindi fai giocare i giocatori condizionati in questa maniera giocatore non gioca tranquillo perché dice se mi danni giallo la mia partita finisce qui hai fatto capire preferisci di marco a bastoni zaghi in difesa hai lanciato un messaggio come dicevo il mio amico rocco prima che saluto anche lui assurdo cosa vuoi far capire in zaghi e preferisci di marco a bastoni praticamente poi cambi la difesa quattro volte durante la partita prima parti in un modo poi dopo ci aggiungi ci aggiungi di marco poi dopo ci aggiungi e poi c'è d'ambrosio poi c'è d'ambrosio cambi difesa quattro volte durante la partita fai cambi difensivi andanovic la gestione del portiere il dualismo che è reato ma di cosa cazzo vogliamo parlare ancora qua allora io ti dico io ti dico lascia perdere i giapponesi lascia perdere il cinese il proprietario dell'inter ad oggi qui deve subentrare la società e capire la dirigenza scusami qui deve intervenire la dirigenza e capire soldi per un altro allenatore bravo non ci sono siamo tutti d'accordo fino a che non cambia la proprietà teniamo in zaghi oppure prendiamo uno tipo stankovic ci mettiamo uno tipo tv uno comunque un polso con carattere e conosce l'ambiente siete pagati voi due tre quattro milioni all'anno per fare queste scelte voi della dirigenza perché siete gli stessi avete comprato gosens a 25 milioni correa 30 siete voi che dovete prendere decisioni e prendervi le responsabilità perché qui non è essere negativi essere realisti non bisogna guardare solo il pallone che entra in porto perché te contro contro il torino hai fatto cacare contro il lecce hai vinto al 95esimo e meno male perché altrimenti noi eravamo in fondo è altro e quarto posto quindi chi li conferma in zaghi ad oggi si prende le sue responsabilità perché per come ho visto gli giocatori e per come la vedo io qua altro e seconda stella qui si sta rischiando il quarto posto ciao inter grazie